Nel cuore del Ginesio Fest in scena, proprio in questi giorni dal 18 e fino al 25 agosto, il direttore artistico Leonardo Lidi e i giurati del premio San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo Di Gianmarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, sono lieti di annunciare che il premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all'attore Lino Guanciale. Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli attori che negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscosse qualità ma anche per la sensibilità artistica, aspetti questo che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. La premiazione alla presenza dello stesso Lino Guanciale si svolgerà durante la serata finale del 25 agosto dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il premio San Ginesio all'arte dell'attore e quello al miglior attore Paolo Piero Bon e alla migliore attrice Petra Valentini. Grazie. Grazie.